Buongiorno e bentornati in Autosmile. Oggi Autosmile a pro del futuro e vi presento il futuro. Mobilità elettrica, full electric ed è questa Volkswagen ID.4 allestimento pro performance, perciò batteria da 77 kilowatt. Sono 204 cavalli di potenza totale, ma pensate un po' questa vettura ha poco più di 33 kilowatt potenza termica, perciò costa molto poco il mantenimento. Il bollo è totalmente esente in alcune regioni come la nostra Lombardia per il momento. Noi cerchiamo sempre dalle immagini dei video di trasmettervi la qualità delle vetture che selezioniamo per voi, ma guardate questa com'è tenuta. È anche vero che questa vettura è un ottobre del 2021, unico proprietario, una vettura italiana, non è di importazione e ha circa 34.900 chilometri. Ancora in garanzia ufficiale Volkswagen. Cerchi in lega da 19 pollici con anteriori 235 e posteriori 255 come misura, molto bella anche di questo colore, che è il manganese grey, è un grigio scuro metallizzato. 77 kilowatt come batteria significa che la fabbrica la dà per oltre 500 chilometri di autonomia. Comunque vada, siete coperti in lunghi tragitti. Bagagliaio molto enorme, qua ci sono i due cavi, come potete vedere si carica in casa con la semplice presa asciuco e poi questa qui si attacca direttamente al bocchettone dove nelle auto normali c'è il rifornimento, che è questo qua. Molto facile, molto intuitivo. E qui c'è questo bellissimo proteggi carico, sotto c'è un vano doppio fondo e ancora un vano. Comunque bagagliaio molto ampio, qui i sedili posteriore sdoppiabili. Guardate che belli i pannelli porta, questo qui è il posteriore. E adesso andiamo all'interno, potete notare tanto, tanto spazio. E guardate i sedili interni come sono tenuti. Tanto spazio per le gambe. Questa vettura è dotata anche al climatizzatore tre zone perché vedete anche il display posteriore. E adesso andiamo nei posti anteriori. Bella, questa è veramente una bella vettura, ma non fidatevi di noi, di quello che vi diciamo. Chiamateci, prenotate il vostro appuntamento e così sarete certi anche che la vettura sia disponibile qui nella nostra sede di Secunago, in provincia di Lodi. Perché da guidare è una sorpresa. Sulle auto elettriche si può essere contrari, ma provatele prima di dare un giudizio. Ovviamente essendo una vettura italiana, ha il suo manuale uso e manutenzione con chiave e doppia chiave. Guardate che bello il design del tunnel centrale. È molto più facile da guidare rispetto a una vettura tradizionale, ma lo capirete quando verrete a provarla. Lato guida, guardate anche i sedili come sono tenuti. Vetri elettrici anteriore e posteriori, specchietti richiudibili elettricamente. Questo è il comando dei fari. E adesso con il sistema Keyless & Go, schiacciamo questo tasto. E la vettura è già accesa. Vedete anche il sistema multimediale che è incredibile, veramente una cosa favolosa. climatizzazione. Con tre zone, appunto. Questa vettura è dotata anche dei sedili riscaldabili, con il comando qua, e del volante riscaldabile. E questo qui è il comando del volante riscaldabile. Con questo tasto c'è il Driving Mode Select, che potete scegliere la modalità di guida. Ve la faremo provare in Sport perché vi lascerà a bocca aperte. E questo qua è tutto il menu a disposizione. Navigatore, ovviamente. Molto bello il volante, arricchito tutti i comandi a sfioro. Cruise Control, ovviamente. Vedete, basta se sposta di qua. Il cambio automatico è semplicemente questo. Così si gira in Drive, N e R. E uno dirà, ma la radio ce l'ha almeno questa macchina spaziale? Eccola qui la radio. Specchietto interno fotocromatico, soscura automaticamente a seconda dell'intensità della luce proiettata dai fari delle vetture che sopraggiungono posteriormente. Bello anche il cielo nero. Vi dirò, stare qui a posto di comando lunghi viaggi per voi. Non può essere altrimenti. Perché c'è tanto, tanto spazio in questa vettura. E tanto comfort di marcia. La vettura è una vettura italiana con il tagliando ufficiale Volkswagen e la garanzia ufficiale Volkswagen. Poi qui c'è porta e bottiglie, due USB-C qua e caricatore wireless del vostro smartphone. Basta appoggiare lì lo smartphone e automaticamente si caricherà. Per farvi capire la cura con cui i tedeschi l'hanno progettata c'è anche la mochette internamente. E i tappetini ufficiali Volkswagen in gomma. Un bracciolo anteriore. E' veramente una vettura arrivata dal futuro. Riassumendo, qui in Autosmite c'è questa Volkswagen ID.4 allestimento Pro Performance con batteria maggiorata a 77 kW per oltre 500 kW di autonomia come dichiara la fabbrica. E' una vettura full electric molto facile da usare e vi aspetta perché è un'occasione unica con un prezzo veramente irripetibile. Contattateci e capirete cosa intendiamo per qualità di vendita. Vi aspettiamo e ricordiamo che questa vettura oltre ad avere la garanzia ufficiale Volkswagen perché non è un'auto di importazione ma italiana è anche coperta dal solito sistema SmileFin che potete entrarne in possesso con lo 0% di anticipo e finanziando l'intero importo. Vi aspettiamo!